Buongiorno e bentornati qua nella nostra galassia prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri video video ovviamente oggi interessantissimo per i molti che lo vedranno e anche cortissimo che riguarda The Division 2 avete seguito le guide uscite fino ad ora su dove trovare e raccogliere gli oggetti su come farmare titanio SHD Tech dove trovare le maschere o perfino oggetti per le QE secondarie bene potete smettere di fare tutto ciò e guardare qua questa è una mappa interattiva in cui potrete letteralmente trovare qualsiasi cosa vi possa interessare in The Division 2 ma la domanda è dove trovare questa mappa? dai siete arrivati fino a questo punto in cui io sproloquia a caso per tirare almeno 30 secondi di video scusatemi ma lo dovevo fare il sito è thedivision2map tuttoattaccato.com trovate il link in descrizione beh con questo è tutto buon weekend e buon game a tutti quanti grazie a tutti 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 grazie a tutti